B come Benefit Corporation Sono imprese che oltre a promuovere il profitto e l'economia, la produttività, l'imprenditorialità hanno una finalità aggiunta, una finalità che integra quella economica che è quella di produrre un impatto sociale positivo L'impatto sociale che si declina rispetto alla comunità, all'ambiente, alla governance e ai lavoratori La cosa è molto interessante e innovativa perché ci dice che il sociale è entrato dentro il paradigma della produzione del valore Prima il sociale era relegato nella sfera meramente del socioassistenziale, del sanitario Oggi il sociale invece è un elemento centrale anche per l'impresa che supera così la logica della responsabilità sociale e entra in una nuova era quella del valore sociale condiviso